Scusate, vorrei proseguire a sentire ancora un pochino la discussione qua, perché mi tocca anche un po' da vicino, sai Manuela, visto che è un po' in famiglia. Per me non so quale sia il suo problema, io oggi di quest'uomo qui che inizialmente trovavo anche vicino a me, perché è intelligente, non è una persona stupida, ma usa la sua intelligenza in un modo strategico, provoca, continuamente, quindi io per me i rapporti con lui sono chiusi. No, Nicola, solo che ha preso questa cosa di, secondo me l'aggressivo è lui, non io, l'ho fatto una volta, due, poi è vero che viene e ti chiede scusa, ma me lo fai una volta, due, tre, quattro, io ho un limite, e comunque l'altra volta, questo è un gioco e lo dobbiamo capire, se tu mi fai, è come mettere le corne e chiedere scusa e poi aspettarti che vada tutto bene, capito? Cioè, nel senso, mi avete chiesto di escludere due coppie e l'ho fatto, è un gioco, che dovevo fare? Avevo litigato la sera prima con lui e ho escluso lui, non vedo il motivo di questo accanimento. Ma è questo che ti ha dato fastidio, Nicola. Non vedo il nexo, capito? Non è solamente la nomina, quello, non c'è dell'altro. No, Ilari, la nomination si sta, fa parte del gioco, mi nomine, è un gioco, ha ragione lui, escludere qualcuno da una competizione per mangiare l'altro giorno. L'altro giorno mi ha risposto, tanto non avresti vinto comunque, lui lo fa in un modo vendicativo e al di là di quello, non è tanto la nomina, non ti faccio partecipare al gioco come ricompensa cibo, dove poi lui era convinto di vincere, ma è tutto quello che è successo nei giorni successivi, è un attacca a brighi, cerca continuamente il pretesto per litigare con tutti, con me in particolar modo, io ho smesso di parlarci, non lo voglio, per me, dobbiamo convivere. Ma sono io che mi sono allontanato di te? Sono io che mi sono allontanato di te? Quindi facciamo questo, stai lui al suo posto, io al mio, va bene così, non ho piacere, non ho piacere di parlare con un uomo che è l'inclusione, aggressivo. Si escludevo altre persone che dovevano fare le altre persone, dovevo escludere per forza, non potevo dire no, non escludere nessuno da mangiare la ricompensa. Dovevo fare una scelta? È il modo, è il modo, non è la scelta, è il modo che ha, voi lo vedete tutto il giorno, le dinamiche, il modo lo vedete anche voi. Ma qual è il tuo modo? Con un macete? Non lo vedete, Gustavo, non lo vedete, ma ti prego. Sì, la settimana scorsa, senti che cosa dice il gruppo oggi di te, caro Geremias, e di tuo padre, senti cosa dice il gruppo di te e di tuo padre, Geremias, che sei un uomo aggressivo, pieno di livore, sei un uomo vendicativo, sei un uomo che parla e minaccia, minaccia le persone, io vi invento cose per mandarti fuori. Ragazzi, 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 però dovete parlare una alla volta se no. Ilona, ilona, tu pure hai detto falsi, falsi, falsi. Bella attenzione, eh, direi. Mamma mia, noi eravamo veramente dei pischelletti rispetto a loro, eh, cioè eravamo molto più tranquilli, però. Io ho litigato da bimbo con i soldi. Qui erano iniziato da subito, nelle primissime puntate. Sì, da subito, eravamo più caldi noi. Soprattutto poi mille dinamiche tutte quante legate all'ITG, poi scusami Angela, scusami Angela, non volevo interromperti, parla di purè. No, purè, ti diciamo che è anche poco tempo, insomma saranno tre settimane, sono tanto nervosi. Tre settimane, oggi tre settimane. Eh, sì. Sono parecchi nervosetti ragazzi, sì, sì. Sentiamo una stupiluna. È arrivato lui vicino, l'ha guardato il mio nome, ha fatto una smorfia, io ho osservato vicino al mare. La sua faccia, se ne è girato, se ne è andato. Cioè, evidentemente gli sto sulle scatte, cioè non gli sono simpatica. Tutto lì, cioè non sono in maniera così, insomma, non è bello. Cioè dobbiamo convivere insieme. Agressivissimi comunque, sì. Cosa, Eremia? Dobbiamo convivere insieme. No, dico aggressivissimi comunque, sì. Dopo questo che ha raccontato. No, lei ha detto falsi, non ha detto aggressivi. No, raccontiamo le altre, Gere, raccontiamo le altre. Se ne è aggressivo, metti l'ansia. Quando uno sta avvicino a te, metti l'ansia. Perché rispondi male, perché provochi, perché lanci delle bombe a tutti quanti. Quello sei tu. Ma senti gli altri, senti gli altri che cosa dicono. Io non parlo per gli altri, senti loro. Però te hai messo d'accordo e sicuramente... Ma è così. Ma senti gli altri, senti gli altri, senti gli altri.